lo sapevate che il testosterone non è un ormone solo maschile ma va anche le donne lo producono in zone diverse del corpo e in diverse quantità e ovviamente noi femminucce ne usiamo di meno oggi comunque questo video è dedicato agli amici uomini vediamo insieme i tre migliori rimedi naturali per aiutare a mantenere nei giusti livelli questo ormone con studi scientifici che lo dimostrano e visto che poi mi iscrivete sempre per chiedere quali sono i migliori prodotti secondo me metto direttamente il link in descrizione andate a vedere alla fine del video ho finalmente qualcosa di utile anche per noi grazie simona anche perché il testosterone non è solo l'ormone della virilità serve anche a tante altre cose se vi piace l'idea di conoscerle mettete subito un bel mi piace a questo video il testosterone è fondamentale per ossa massa magra accumulo e riduzione della massa grassa produzione di globuli rossi e pensate i livelli di testosterone possono influenzare anche l'umore nell'uomo quando i livelli di testosterone sono bassi si manifestano diversi sintomi ecco i principali diminuzione del desiderio sessuale primo tra tutti poca energia aumento di peso depressione malumore bassa autostima perdita dei capelli con ricrescita ridotta e assottigliamento delle ossa uomini se è possibile e il vostro medico è d'accordo fatevi aiutare dalla natura prima di ricorrere alla chimica sostitutiva ecco la mia selezione dei tre prodotti più efficaci secondo gli studi scientifici che riporto in descrizione ashwagandha detto anche ginseng indiano è utilizzato da secoli nella medicina tradizionale indiana come tonico e per il benessere maschile le radici e le bacche di questa pianta contengono più di 80 principi attivi e sono utili in forma di tè estratti o capsule per la disfunzione sessuale e l'infertilità maschile yohimbe conosciuta anche come yohimbina è una corteccia che si trova in forma di compresse o capsule è ricca di alcaloidi sostanze che interagiscono con la secrezione ormonale in america lo yohimbe è stato riconosciuto come prodotto efficace per la disfunzione erettile e come sempre va assunto leggendo bene le indicazioni e le dosi ma prima di vedere il terzo rimedio mi raccomando dopo questo video andate a vedere tutta la playlist dedicata al benessere maschile con altri video dedicati alla prostata al testosterone e all'apparato riproduttivo maschile tribulus terrestris è una pianta tropicale in grado di aumentare il livello di testosterone e degli spermatozoi il frutto le foglie e la radice della pianta sono efficaci si trovano in capsule e compresse contengono protodioscina una saponina steroidea che costituisce circa il 45 per cento dell'estratto e sembra in grado di incrementare la produzione interna di testosterone in più come dico sempre oltre ai rimedi lo stile di vita è determinante per la salute di tutto il corpo nello specifico per il testosterone alcune ricerche hanno dimostrato che i due cambiamenti nelle abitudini quotidiane con l'effetto più importante sono uno fare esercizi di resistenza e due perdere peso se in eccesso se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao